Ci troviamo tra le splendide moto Benelli che hanno segnato un'epoca e la tradizione del nostro territorio, una tradizione motoristica che si rinnova da anni con la Benelli Week, un appuntamento ormai fisso per tutti gli appassionati della Casa del Leoncino. Casa del Leoncino che quest'anno vive una Benelli Week ancora più particolare perché ricorre proprio in questo 2021 il 110 anniversario dell'azienda motoristica. È iniziato nel 2011, quindi sono ben 11 anni che facciamo questo tipo di manifestazione, però quest'anno l'abbiamo allungata, anzi abbiamo fatto un prologo che sarà domenica 12 dedicato alle moto storiche ma soprattutto dedicato al ricordo di un grande personaggio che è stato Paolo Prospero. Negli ultimi anni il lavoro che è stato fatto dai soci, dai volontari del Motoclub Benelli è stato veramente molto importante. Lavoro che è stato sostenuto anche a livello regionale grazie alla legge che appunto aveva l'obiettivo di promuovere la cultura e quello che era il mondo dei motori a livello regionale. Pesaro e Tavuglia ovviamente rappresentano un'eccellenza sia per quello che riguarda i piloti che ci sono stati nel corso della storia ma anche per quello che riguarda la meccanica, cioè le moto, in particolar modo la Benelli. E dunque le moto Benelli per una settimana sfileranno tra le bellezze del territorio, da Urbino al Monte Nerone, al Monte Cucco, a Iesi, passando anche per Salleo e il Museo del Bali. Verranno organizzati tutta una serie di percorsi itinerari lungo il territorio regionale per andare a visitare quelle che sono le eccellenze dal punto di vista culturale, dal punto di vista pieno gastronomico e quindi come dire anche quelle che sono le eccellenze, appunto tutte le cose più belle che possiamo far visitare. La settimana si andrà a chiudere a Villa Caprile in un luogo veramente fantastico dove ci sarà la festa legata ai 110 anni della Benelli e anche da lì partirà un altro motogiro che coinvolgerà tanti appassionati che fanno parte, che verranno veramente anche da fuori. Passeggiare nelle nostre strade, nei nostri territori è sempre bellissimo. Ma dimostra il fatto che piace anche questo format perché gli stranieri che hanno cominciato a venire qui a Pesaro nel 2011 ancora tornano, sono presenti. L'associazione che rappresento ha il compito di far conoscere queste peculiarità della nostra provincia, della nostra regione, in Italia e in Europa. Stiamo lavorando molto per farlo conoscere. Questi eventi chiaramente contribuiscono tantissimo alla conoscenza di questo importante settore della nostra provincia, della nostra città.